Mi rifiuto di accettare all'età che ho, dopo 40 anni quasi di attività agricola, che devo decidere cosa coltivare nella mia azienda a seconda che quello che coltivo piaccia o non piaccia ai cinghiali. È una cosa insopportabile. Alla manifestazione in regione ad Ancona c'è anche Andrea Busetto, l'agricoltore di Montecalvo in foglia che contro i cinghiali ha fatto anche lo sciopero della fame alcune settimane fa con un sit-in in piazza Pesaro davanti alla prefettura. L'80% del mais che coltiva se lo mangiano i cinghiali, racconta. Il nodo dei selvatici ha portato circa 200 agricoltori di Cia, Copagri, Conf Agricoltura, Frima, Fedagri, Conf Cooperative davanti a Palazzo Leopardi, sede del Consiglio regionale. Una delegazione ha incontrato la vicepresidente della regione e assessora all'agricoltura Anna Casini che ricorda le quattro delibere coordinate assunte nei giorni scorsi per contenere i danni. Resta aperta la questione dei rimborsi e dunque l'accelerazione delle erogazioni. Il pagamento immediato di tutti i danni non solo per gli agricoltori ma anche per gli incidenti automobilistici. Il controllo del numero dei selvatici, non solo cinghiali, sarà aumentato anche con i piccioni perché arriverà una delibera in giunta che tutelerà praticamente i nostri produttori di frutta. Dopo 20 anni è una timida iniziativa da parte della regione che consente in qualche modo di poter dare un inizio a un percorso diverso per la realtà agricola.